Salve amici del centro medio italiano. L'estate dovrà difendersi da diverse insidie che potranno presentarsi nei prossimi giorni e nella seconda parte del mese di luglio. Diamo quindi uno sguardo alla tendenza nel medio-lungo periodo. Un altro fronte instabile transiterà intanto nel weekend sulle regioni nord-orientali, coinvolgendo anche i settori pianeggianti. Il modello americano GFS propone a partire dalla metà della prossima settimana il transito di una goccia fredda che porterebbe condizioni di maltempo anche intenso sulla nostra penisola. Differente la visione del modello europeo che colloca il nucleo depressionario in quota sull'Europa centro-orientale con l'Italia che ne verrebbe soltanto lambita. Per quanto riguarda le temperature, dopo il rialzo termico dei prossimi giorni, i valori potrebbero riportarsi nella media stagionale o poco al di sotto. Vi invitiamo come sempre a seguire sia il nostro sito che il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.